Ragazzi, ma dai, è la prima volta che ci vediamo dopo quindici anni e vi mettete a giocare a carte. Allora, per favore, per favore. Scusa, va bene, va bene. Potete abbassare la musica, grazie. Pure, che palle. Credola. Me ne vado. Cento mila. No. Vengo. 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 E che te leggi i promessi sposi? Forza, aprigli ste carte. Calma, calma, se no non mi ci si diverte. Ecco. Vengo. Ecco. Le due centomila. Più trecentomila. Non c'hai le gambe, ma c'hai un gran culo. Non direi, a due nove. Due nove. Due nove. Due. Ma come? Fammi il pocherino, fammi il pocherino. Poi ho tre ganci dei cachi sotto. Beh, andate, ne va. Con queste fanno sette. E' una, vai. Carta a te. Andiamo, andiamo. Vado a prendere le sigarette, faccia il buio. Bye, bye.